In questo video una mia interpretazione di come si può realizzare con la pittura un panorama con i grattacieli in lontananza. Per questo dipinto ho scelto la città di Miami. Iniziamo con un disegno approssimativo usando un colore di tonalità neutra. Sto usando il blu altremare miscelato al rosso carminio. Iniziamo con un colore di tonalità. Iniziamo con un colore di tonalità. Come ombreggiature una luce diffusa con toni morbidi considerando che la luce del sole filtra attraverso i palazzi. Usando la tecnica del chiaroscuro andiamo a dipingere i grattacieli e con una tonalità chiara creiamo delle sagome in secondo piano e con i palazzi in primo piano più definiti otteniamo la percezione della prospettiva. Perché percezione? Perché da una superficie piatta si va a rappresentare una prospettiva pittorica quindi una percezione visiva sia che si vuole dare l'impressione di un paesaggio all'orizzonte oppure dare la prospettiva a un oggetto nel suo spazio a tre dimensioni. In un prossimo video voglio parlarvi e farvi vedere di come creare la prospettiva e la profondità di un paesaggio. infine i punti luce dati con piccole pennellate mirate così da fare evidenziare i palazzi nella parte centrale. attraverso i palazzi in un paesaggio all'orizzonte. grazie per la visione buona pittura e ci vediamo al prossimo tutorial ciao 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 ciao